Con Battisti invece ho lavorato. E com'era? Com'è stato? Beh, è stato, era un lavoratore lui, lui era un concetto di lavoro, lui si iniziava la mattina alle 9 e finiva la sera alle 8, come un impiegato della canzone, però poi è riuscito a fare novità, comunicazione assolutamente diversa da quello che si usava in quell'epoca lì, è stato molto forte. Si mette lì e studia, facendo un'armonia, un'altra armonia, cambiando la situazione, è così. Perché uno è abituato a pensare, se un atleta o uno sportivo va in palestra a fare questo, il musicista è diverso. No, ma scusa, chi ha dei risultati mondiali o anche italiani non è che va in palestra e fa solo quello, fa un esercizio fisico pazzesco ragazzi per raggiungere quello che Giacos ha fatto nei 100 metri. Ragazzi, ma io credo che abbia fatto degli allenamenti paurosi.